...europei assassinati con il progetto di sterminarli tutti. Che fu responsabile e complice del regime nazista di sconto su quello che è stato in questo paese il regime fascista di Mussolini. Di un padre, Alberto Nierenstein, che perse tutta quanta la sua famiglia. Non è un atto passivo, coinvolge la volontà. Almeno in questi ultimi cinque anni. Le abbiamo spente, ciò che è all'opposizione. Ma percentuali significative. È una battaglia che in maniera perversa viene continuamente ignorata. Budapest è stato fondato ancora dal primo governo odierno attraverso un esempio preso dall'Ungheria. Grazie. 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 Grazie.